La Regione Toscana ha acquisito da alcuni mesi la piena titolarità dell'ex complesso monastico di Santa Pollonia nel centro storico di Firenze. Per valorizzarne la vocazione di spazio per iniziative e attività culturali, di studio e di aggregazione giovanile, la Regione ha lanciato un processo di partecipazione dal basso, la cui gestione è stata affidata a uno spin-off universitario, MHC Progetto Territorio. Dopo una prima di ascolto dal luglio a settembre è prevista una fase di partecipazione attiva fino a ottobre e infine a novembre la verifica e i risultati. Insomma stiamo lavorando per costruire appunto un percorso di partecipazione che vedrà appunto l'ascolto, l'ascolto di cittadini, studenti, operatori che operano all'interno di quello spazio ma anche nelle zone limitrofe appunto per progettare poi questo polo che dovrà appunto mantenere la sua vocazione, cioè una vocazione culturale e di aggregazione giovanile. L'evoluzione del processo partecipativo e tutti i materiali saranno disponibili sulla piattaforma della Regione Open Toscana e presso uno sportello aperto a Santa Pollonia.